Baby Vandal in azione nel parco di Salleo e così tre bambine prendono carta e penna per scrivere una lettera direttamente alla vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini. Hanno fatto bene perché dimostrano al contrario di qualcun altro di avere una buona educazione e un grande senso civico e quindi è bene ispirarsi a loro come esempio. La lettera è stata imbucata nella cassetta della posta del vice sindaco. Le bimbe che si sono firmate, tre ragazzine del quartiere raccontano quanto successo denunciando i danni riportati. Alcuni ragazzetti della zona hanno vandalizzato la zona dei giochi, ovvero hanno sbarbato e divelto il contenitore di gel sanificante, i cartelli che avevamo a posto e fatto un po' di sporcizia all'intorno. Sono episodi che purtroppo capitano abbastanza spesso, non soltanto a Salleo. Ieri mi sono trovato questa lettera nella cassetta perché evidentemente i vicini sanno dove sto di casa e mi volevano sensibilizzare ulteriormente sul problema, ma purtroppo non è l'unico caso, c'è abbastanza inciviltà. Il tutto è stato già ripristinato dal comune di Arezzo. Oggi più che mai io richiamo un po' l'attenzione delle famiglie e dei ragazzi, sono soldi pubblici, sono soldi di tutti noi, dei vostri genitori, di tutti quanti, tanti o pochi che siano, non ha senso, non lo fate perché sono veramente soldi buttati via. Abbiate a cuore il bene pubblico perché è bene di tutti e anche vostro.